Bene, ci troviamo all'Hotel Flora in centro di Lino, siamo con Camilla Cusine che è la responsabile del ricevimento. Buongiorno Camilla, avete riaperto o è cambiato qualcosa rispetto allo scorso anno? Sì, qualche cosina sicuramente è cambiata rispetto all'anno prima dovuto a questa situazione appunto del Covid-19 e sono cambiate prettamente il sistema in cui ci giriamo qua all'interno della struttura, quindi a livello preventivo di sanificazione, sanificazione, distanziamento sociale e anche quando c'è il check-in viene fatto qualcosa di diverso? Sì, sicuramente viene significato ogni volta che abbiamo un check-in diverso, distanziamento, ovviamente noi come anche dal cliente c'è l'aspettativa dell'utilizzo delle mascherine, dei guanti appunto se necessario e se ci sono qualche scambio di documento in maniera diretta. Benissimo, i nuovi clienti da dove arrivano principalmente quest'anno? Quest'anno sono principalmente clienti italiani. Italiani, a differenza degli altri anni che erano un po' misti. Benissimo, sono stato un attimo in giro qui a Livigno, ho visto che i turisti sono tranquilli, ho fatto un salto anche al laghetto, gente che prende il sole, è distanziata, per cui tutto come prima, direi. Sì, a parte l'utilizzo della mascherina, l'attenzione verso il distanziamento di almeno un metro. Che comunque c'è nei luoghi chiusi, ovviamente. Sì, esatto, è comunque rimasto tutto tranquillo. Si può prendere i sentieri, camminare, andare al lago, passeggiare sulla pista ciclabile, in centro per negozi, è rimasto quello che è stato. Allora, diamo un messaggio positivo ai turisti che ci guardano, li invitiamo a venire a Livigno, all'Hotel Flora, vogliamo dare i dati dell'hotel per poterti non contattare? Sì, certo, scriveteci pure all'indirizzo email info-hotelflora-livigno.it oppure potete anche chiamarci allo 0342 996 034. Benissimo, ringraziamo Camilla Cusini per averci dedicato questi minuti, auguriamo a tutti una buona estate! E buona estate!